Leggendo le scritture, scoprire la presenza di Cristo come pietra, dalle prime pagine alle ultime pagine della rivelazione. E' che la pietra è scritta nel cuore dell'uomo da quando egli trovò rifugio nella pietra davanti agli animali feroci, quando la pietra diventò la sua difesa, diventò la sua abitazione. Pietra mea dominus, la mia pietra è il Signore. Leggendo le scritture, incontriamo la pietra di Israele, Dio. Prendete il cantico che troviamo nel Deuteronomio 32, cantico di Mosè, dove spesso Dio è chiamato roccia, pietra. Ci sono tanti salmi dove Dio ha invocato pietra. Suri, sur pietra, mia pietra. Suri atah, tu mia pietra. Adonai. Israele sente il bisogno di rifugiarsi in Dio, di invocare Dio roccia, di abitare in Dio. C'è un testo che dice, egli ha posto la sua abitazione nella pietra, perché è un'abitazione sicura, abitare in Dio. Non possiamo dilungarci su tutto questo materiale che potrebbe servire da introduzione. Però dietro questa roccia, dietro questa pietra, si nasconde Cristo, Signore. che ritroviamo così nella pietra cultuale. Innanzitutto, ricordate quando Giacobbe dorme, prende una pietra per guanciale e durante la notte ha un sogno, vede la scala, che da terra arriva fino al cielo. Gli angeli salgono e scendono da questa scala. Cristo si ricorderà di questa scala. Vedrà appunto in Giovanni 1,51 tutti i meravigli di Natanaere perché ti ho detto queste cose. Che cosa sarà quando vedrai gli angeli di Dio salire e scendere nel figlio dell'uomo attraverso i figli dell'uomo, come è scritto in molti codici. Quando Giacobbe si sveglia, si meraviglia e tutto attribuisce a quella pietra. Prende l'olio, lo versa sulla pietra e la consacra. È il primo altare, è letto a Dio e chiama quel luogo casa di preghiera, Beth El, casa di Dio. Leggiamo questo brano che è molto interessante in Genesi 28. Giacobbe partì da Bersabea e si deresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e a oriente a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua terra discendenze di tutte le nazioni della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questo paese perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse Quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo. Alla mattina presto Giacobbe si alzò presa la pietra che si era posta come guanciale la resse come una stele e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretta come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai io ti offrirò la decima. La stella è la stele di Betel la pietra di Betel su cui poggia il capo Giacobbe. C'è un'altra pietra su cui si siede Mosè. Il popolo è in battaglia a valle Kale e Beur sono vicini a lui mentre Gesù è dirige le operazioni di guerra. Avvertono che quando Mosè prega il popolo vince quando cessa di pregare il popolo perde. Allora ecco una pietra questa pietra è l'intercessione di Cristo. Su questa pietra si siede l'intercessore per eccellenza Mosè e ottiene da Dio la vittoria su Amalek. E' interessante questo testo perché Amalek rappresenta tutte le forze del male. Dio dirà ci sarà guerra perpetua di generazione in generazione tra Israele ed Amalek fino alla fine dei giorni. E' nella preghiera su questo altare di preghiera che avviene la sconfitta delle forze del male. Leggiamo. Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Rephidim. Mosè disse a Giosuè scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè seguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek mentre Mosè Aron e Kur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani Israele era il più forte ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare presero una pietra la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette mentre Aron e Kur uno da una parte e l'altro dall'altra sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimassero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. Allora il Signore disse a Mosè scrivi questo per ricordo nel libro e metti negli orecchi di Giosè io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare lo chiamò il Signore il mio vessillo e disse una mano diventa diventa l'altare del vessillo. Andiamo adesso a Galgalo il popolo ha attraversato il Giordano Giosuè ordina di prendere 12 pietre una per ogni tribù e di fabbricare un altare e altare memoriale di quanto ha fatto il Signore il Signore ha operato un prodigio attratto dall'Egitto il suo popolo e adesso ha attraversato il deserto ed entra nella terra promessa la parola di Dio si compie a piedi asciutti sono passati però Gesù ordina che vengano prese 12 pietre e si faccia un altare su queste 12 pietre viene alzato così un sacrificio al Signore il popolo salì dal Giordano il 10 del primo mese e si accampò in Galgala dalla parte orientale di Gerico quelle 12 pietre che avevano portate dal Giordano Giusella eresse in Galgala si rivolse poi agli israeliti quando domani i vostri figli interrogeranno i loro padri che cosa sono queste pietre farete sapere ai vostri figli all'asciutto Israele ha attraversato questo Giordano poiché il Signore Dio vostro prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi finché foste passati come fece il Signore Dio vostro al mare rosso che prosciugò davanti a noi finché non fummo passati perché tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore e temiate il Signore Dio vostro per sempre a Galad 22 di Giosuè succede un così un dissapore tra le tribù e allora pensano bene di dirigere un altare di comunione in modo in modo che tutti anche i figli lontani vedendo quest'altare si ricordassero che le tribù di Israele sono unite tra di loro che sono in comunione tra di loro e l'altare della comunione che avviene sempre in Cristo Gesù leggiamo perciò abbiamo detto costruiamo un altare non per olocausti né per sacrifici ma perché sia testimonio fra noi e voi e fra i nostri discendenti dopo di noi dimostrando che vogliamo servire al Signore dinanzi a Lui con i nostri olocausti con le nostre vittime e con i nostri sacrifici di comunione così i vostri figli non potranno un giorno dire ai nostri figli voi non avete parte alcuna con il Signore abbiamo detto se ne avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti noi risponderemo guardate la forma dell'altare del Signore che per i nostri padri fecero non per olocausti né per sacrifici ma perché fosse di testimonio fra noi e voi lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore e di desistere dal seguire il Signore costruendo un altare per olocausti per oblazioni o per sacrifici oltre all'altare del Signore nostro Dio che è davanti alla sua dimora ecco siamo a Sichen siamo a Sichen capitolo 24 di Giosuè Giosuè ormai si avvia la morte ma prima di lasciare questo mondo raduna il popolo a Sichen e rinnova l'alleanza davanti alla pietra che sta sotto il Terebinto è una pietra particolare che ha orecchi ed ha occhi una pietra viva questa pietra è testimonio egli sente e essa sente questa pietra essa vede per cui è testimone del giudamento di fedeltà a Dio leggiamo soltanto i versetti terminali Giosuè disse a tutti il popolo ecco questa pietra sarà una testimonianza per noi perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette essa servirà quindi da testimonio contro di voi perché non rinneghiate il vostro Dio bellissimo questo ultimo altare siamo in Egitto e è Isaia che parla e dice che in Egitto sarà eretto un altare al Signore lì confluiranno tutti i popoli non ci sarà più l'egiziano o l'ebreo non ci sarà più l'assiro ma tutti saranno davanti al Signore io sotto un unico luogo in un unico luogo e tutti si cosecheranno sullo stesso altare ecco è un'allusione secondo la profezia di Malachia a quell'unica ostia che viene offerta è in Cristo Signore che i popoli dispersi diventano una cosa sola ed è in Cristo Signore che è stata al Padre l'olocausto di tutta l'umanità è una profezia in quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo al paese d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la sua frontiera sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d'Egitto quanto di fronte agli avversari invocheranno il Signore allora Egli manderà loro un Salvatore che li difenderà e li libererà il Signore si rivelerà agli egiziani e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore lo serviranno con sacrifici e offerte faranno voti al Signore e li adempiranno il Signore percuoterà ancora agli egiziani ma una volta colpiti li risanerà essi faranno ritorno al Signore ed Egli si placherà e li risanerà ecco gli egiziani sono tutti i popoli pagani l'Egitto è il paese della schiavitù il Signore ha cura di tutti i popoli in Cristo Gesù ebrei e pagani diventeranno come nel legno della croce una unità Cristo riunisce i due legni il legno pagano e il legno sacro e ne fa dei due legni una sola croce e in questa croce si offrirà al Padre per la salvezza di tutti e Egli è il liberatore promesso come scritto nel testo e qui abbiamo letto la pietra come pietra di culto come pietra altare sotto ognuna di queste pietre c'è Cristo che cammina con il suo popolo adesso questa pietra diventa una pietra viva una pietra da cui sgorga l'acqua ricordatevi che dalla pietra che dall'acqua c'è il simbolo dello spirito l'acqua e lo spirito santo leggiamo questi due testi nella radiazione dei numeri e nell'interpretazione che poi le dà Paolo Apostolo nella prima letta dei Corinzi ora tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Cades qui morì e fu sepolta Maria mancava l'acqua per la comunità ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne il popolo ebbe una lite con Mosè dicendo magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore perché avete condotto la comunità del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame e perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per conturci in questo luogo inospitale non è un luogo dove si possa seminare non ci sono fichi non vigne non melograni non c'è acqua da bere allora Mosè e Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso della tenta del convegno si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro il Signore disse a Mosè prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e alla loro presenza parlate a quella roccia ed essa farà uscire l'acqua tu farai sgorgare per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore come il Signore gli aveva ordinato Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro ascoltate o ribelli vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia Mosè alzò la mano percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza ne bevero la comunità e tutto il bestiame parla questa roccia dunque è una roccia che sente chi è questa roccia ce lo dice l'apostolo Paolo e Corinzi 10 1 4 prima lettera non vogliate infatti che ignoriate o fratelli che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola tutti attraversarono il mare tutti furono battezzati rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale tutti bevero la stessa bevanta spirituale bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo ecco quella roccia è il Cristo è in definizione autentica quella roccia è il Cristo ogni volta che noi sentiamo roccia sentiamo pietra ricordiamoci di Cristo fa capolino in tutte le pagine della scrittura andiamo adesso a un'altra acqua che sgorga dal tempio santo di Dio dal blocco del tempio e il tempio così è scatologico è il tempio secondo la concezione di Ezechiele questo tempio è il Cristo il lato destro e il fianco di Cristo che viene trafitto dalla lancia da questo tempio esce un fiume di acqua viva che dà la vita e il fiume dello spirito Cristo dirà nel giorno delle capanne fesso delle capanne che fiumi di acqua viva sarebbero scatoliti da coloro che avrebbero creduto in Lui e accennava allo spirito santo che i credenti in Lui avrebbero ricevuto leggiamo mi contusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente poiché la facciata del tempio era verso oriente quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio dalla parte meridionale dell'altare mi contusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro quell'uomo avanzò verso oriente con una cordicella in mano misurò mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua mi giungeva alla caviglia misurò altri mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua mi giungeva al ginocchio misurò altri mille cubiti poi mi fece attraversare l'acqua mi giungeva ai fianchi ne misurò altri mille era un fiume che non poteva attraversare perché le acque erano cresciute erano acque navigabili un fiume da non potersi passare a guado allora egli mi disse hai visto figlio dell'uomo poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume voltandomi vidi che sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra mi disse queste acque escono di nuovo nella regione orientale scendono nell'araba ed entrano nel mare sboccate in mare ne risanano le acque ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume vivrà il pesce vi sarà abbondantissimo perché quelle acque dove giuncono risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà dal tempio che sta sulla croce Cristo Signore lui stesso diceva distruggete questo tempio in tre giorni io lo riedificherò alludendo al suo corpo da questo tempio trafitto esce lo spirito l'acqua leggiamo il testo di Giovanni venuti però da Gesù e vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sanque e acqua ecco qua ecco abbiamo visto la pietra culturale la pietra sorgente di acqua viva adesso entriamo nel più vivo del mistero della pietra Gesù stesso si chiama pietra io sono la pietra egli è la pietra su cui si edifica la chiesa su cui ci edifichiamo noi è la pietra di fondamento la pietra testata d'angolo ecco la pietra di Daniele quella pietruzza che rotola dalla cima del monte si ingrossa arrivato alla base del monte distrugge la stato d'oro di argento di argilla di forro e diventa una montagna che occupa la terra quella pietra seconda l'interpretazione dei padri costante è Cristo Signore che distrugge il regno della terra e fonda un altro regno il regno dello spirito fonda la chiesa ecco Daniele che ci presenta in questa pietra il figlio dell'uomo fondamento della nuova città mentre stavi guardando una pietra si staccò dal monte ma non per mano di uomo e andò a battere contro i piedi della statua che erano di ferro e di argilla e li frantumò allora si frantumarono anche il ferro l'argilla il bronzo e l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie ed estate il vento li portò via senza lasciar traccia mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta quella regione Gesù paragone il regno dei cieli ad un albero che espande i suoi rami così in alto e in largo tanto che gli uccelli del cielo possono dosarsi ecco la vitalità della chiesa questa pietra fondamentale è che Cristo che scende dalla cima della montagna scende da Dio e il figlio dell'uomo che scende da Dio diventa una pietra preziosa e la pietra è la pietra posta in Sion la nuova città di Dio la nuova Gerusalemme e sa io che ce lo dice ecco dice il Signore io pongo una pietra in Sion una pietra scelta angolare preziosa saldamente fondata chi crede non vacillerà questa stessa pietra ricompare in Zaccaria è una pietra preziosa una pietra viva che ha sette occhi è la pienezza dello spirito attraverso questi occhi egli vede tutta la terra ha un'iscrizione ha c'è una consacrazione scritta come dice il testo è una pietra consacrata una pietra incisa è la pietra sacra che è Cristo Signore il germoglio ascolta dunque Giosuè sommo sacerdote tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te poiché essi servono da presagio ecco io manderò il mio servo germoglio ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè sette occhi sono su quest'unica pietra io stesso inciderò la sua iscrizione oracolo del Signore degli eserciti e rimuoverò in un solo giorno l'iniquità da questo paese in quel giorno oracolo del Signore degli eserciti ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico l'allusione a Cristo è chiara sia sotto l'immagine del germoglio sia sotto l'immagine della pietra viva con sette occhi pietra consacrata da un'iscrizione sacro a Yahweh in quel giorno Dio rimuoverà l'iniquità di tutti i popoli il sacrificio di Cristo e tutti saranno nella pace ognuno sotto il suo fico e sotto la sua vita vive per la costruzione di un edificio spirituale per un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo si legge infatti nella scrittura io pongo in si una pietra angolare scelta preziosa e chi crede in essa non resterà confuso onore dunque a voi che credete ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare sasso d'inciampo e pietra di scandalo loro vi inciampano perché non credono alla parola a questo sono stati destinati ma voi siete la stirpe letta sacerdozio regale la nazione santa il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla luce mirabile voi che un tempo eravate non popolo ora invece siete il popolo di Dio voi un tempo esclusi dalla misericordia ora invece avete ottenuto misericordia ecco aggiungiamo l'ultimo testo in questa prima parte della mistagogia la nostra responsabilità noi tutti come dice l'apostro dei corinti tre prima lettera noi fabbrichiamo sul sfondamento che è Cristo però possiamo fabbricare non con pietre scelte oro argente gem ma possiamo anche immettere paglia e fieno ma il giorno del Signore manifesterà se la nostra opera è stata un'opera buona oppure se noi abbiamo fabbricato con materiale cattivo ciascuno stia attento a come costruisce infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova che è Gesù Cristo e se sopra questo fondamento si costruisce con oro argento pietre preziose legno fieno e paglia l'opera di ciascuno sarà ben visibile la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà ne riceverà ricompensa ma se l'opera finirà bruciata sarà punito egli si salverà tuttavia però come attraverso il fuoco ecco abbiamo fatto questo discursus sulla pietra cultuale sulla pietra itinerante nel nostro viaggio nel nostro cammino sulla terra e sulla pietra che è fondamento dell'edificio spirituale fondamento della chiesa siamo ancora nel tempo siamo in tempo di costruzione ma adesso uno sguardo uno sguardo sulla seconda fase gloriosa della chiesa e la fase bella i nostri occhi si illuminano ecco abbiamo tre visioni la visione di seia la visione di tobia e la bella visione dell'apocalisse come qui potete osservare avete dei dodici fondamenta sono i dodici apostoli della chiesa celeste se li vedete non so sono tutte tratte da pietre vere sono tutte pietre vere non tutte sono precise quelle che si trovano nell'elenco dell'apocalisse come non sono tutte quelle precise che troviamo nell'efod cioè nel pettorale ma tutto questo adesso ci aiuteranno a entrare nel mistero perché perché la gloria di Cristo rifugia nei sui santi tutte queste gemme tutte queste pietre sono Cristo Cristo che rifugia nei santi sono tutte gemme che manifestano lo splendore delle virtù di Cristo dei sentimenti di Cristo veramente Dio emirabile nei suoi santi la santità di Cristo rifugia in Pietro in Giacomo in Giovanni in tutti i dodici apostoli e in tutti quelli che partecipano nel spirito così nella fede alla vita e alla santità dei dodici apostoli qui troverete le pietre preziose quelle vere più importanti troverete un bel topazio grosso troverete qui cristale di rocca trovate qui un crisolito trovate qui un rubino millefiori bello grosso trovate qui un'altra pietra preziosa e finalmente una gemma una gemma piccola un brillante non è un brillante di prima qualità ma è sempre una bella pietra bene tutte queste pietre noi le troviamo nelle scritture poi qui troverete queste piccole pietre sono tutte pietre autentiche queste piccole alla fine le donne potranno prendere una di queste pietre come ricordo sono tutte autentiche non ci sono false pietre però sono piccole non sono sono tutte levigate ma non hanno così il taglio adatto per essere incastonate però sono pietre autentiche soltanto le donne potranno prendere perché sono appena cento cento donne ci siamo o se ci siamo con cento donne con cento donne ci siamo questa è una drusa drusa diametista una drusa diametista è quella pietra preziosa che rappresenta Cristo e allora dopo queste presentazione riprendiamo il nostro discorso la trepice visione della Gerusalemme celeste ho dimenticato l'altro scatolino delle pietre grosse che volevo essere destinati agli uomini ed erano molto belle ho dimenticato lo scatolo per cui ecco la visione siamo siamo brevi la visione di Isaia Isaia vede la bella città ecco leggiamo il testo di Isaia avanti tu 54 la nuova Gerusalemme afflitta percorsa dal turbine sconsolata ecco io pongo sulla malachite le tue pietre e sugli zaffiri le tue fondamenta farò di rubini la tua merlatura le tue porte saranno di carbonchi tutta la tua cinta sarà di pietre preziose tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore grande sarà la prosperità dei tuoi figli sarai fondata sulla giustizia sta lontana dall'oppressione perché non dovrai temere dallo spavento perché non ti si accosterà quella visione della Gerusalemme celeste tutta di pietre preziose sono i doni di Dio l'uomo dell'Eden in 28 di Ezechiele e tutto ricorno di pietre preziose ce ne mancano tre la fede la speranza e la carità le ha perdute quando è caduta dal cielo così dicono i santi papi interpretando io ho scritto questo libretto su queste pietre preziose nella scrittura in cinque capitoli il culto della pietra nell'umanità il mistero della pietra nella scrittura le pietre preziose nella scrittura l'individuazione delle pietre preziose nella sacra scrittura e il simbolismo delle pietre preziose adesso vedremo e allora un'altra visione quella di Tobia diciamo Tobia capitolo tredicesimo nel cantico benedetti coloro che edificeranno Gerusalemme siamo noi che siamo chiamati a edificare Gerusalemme maledetti coloro che la distruggono allora Tobi scrisse questa preghiera di esultanza e disse benedetto Dio che vive in eterno il suo regno dura per tutti i secoli egli castiga e usa misericordia fa scendere negli abissi della terra fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano lodatelo figli di Israele davanti alle genti egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare per proclamare la sua grandezza esaltatelo davanti ad ogni vivente è Lui il Signore il nostro Dio Lui il nostro Padre il Dio per tutti i secoli vi castiga per le vostre ingiustizie ma userà misericordia a tutti voi vi raduna da tutte le genti fra le quali siete stati dispersi convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare la giustizia davanti a Lui allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli io gli do l'ode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori convertitevi o peccatori e operate la giustizia davanti a Lui chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza tutti ne parlino e diano l'ode a Lui in Gerusalemme Gerusalemme città santa ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti dà l'ode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia per allietare in te tutti i deportati per far contenti in te tutti gli sventurati per tutte le generazioni dei secoli come luce splendida brillerai sino ai confini della terra nazioni numerose verranno a te da lontano gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome portando in mano i doni per il Re del Cielo generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli maledetti coloro che ti malediranno maledetti saranno quanti ti distruggono demoliscono le tue mura rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni ma benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno sorgi ed esulta per i figli dei giusti tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli beati coloro che ti amano beati coloro che gioiscono per la tua pace beati coloro che avranno pianto per le tue sventure gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre anima mia benedici il Signore il Gran Re Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar lode al Re del Cielo le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo e tutte le sue mura di pietre preziose le torre di Gerusalemme si costruiranno con loro e i loro baruardi con oro finissimo le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di ofir le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le sue case canteranno alleluia benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome per sempre e nei secoli su questo cantico di Tobia possiamo edificare e distruggere Gerusalemme è la Gerusalemme della Chiesa che viene ricostruita da noi con pietre preziose che Dio ci dà di zaffiri e di smeraldi sarà adornata Gerusalemme sarà lastricata di diastre e le sue colonne saranno d'oro questa bellissima visione la ritroviamo nell'Apocalisse ma adesso vogliamo cantare la discesa della sposa la città santa che scende dal cielo e poi vedremo le sue fondamenta come sono preziosa leggiamo l'Apocalisse 21 1 23 e poi diamo la spiegazione quindi abborderemo la spiegazione di questi due così cartelloni dove c'è la interpretazione tropologica delle pietre le attribuzioni e le virtù poi c'è la scelta ognuno si deve identificare con una pietra abbiamo le pietre Zodiacalmo qui abbiamo le pietre che sono nella scrittura ognuno scelga la sua pietra e scelga di imitare qualche cosa di Cristo Signore e adesso leggiamo vedi poi un nuovo cielo e una nuova terra perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più vedi anche la città santa la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo udì allora una voce potente che usciva dal trono ecco la dimora di Dio con gli uomini egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima dai loro occhi non ci sarà più la morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate e colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio nuove tutte le cose e soggiunse scrivi perché queste parole sono certe e veraci ecco sono compiute io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita chi sarà vittorioso erediterà questi beni io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio la città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele a oriente tre porte a settentrione tre porte a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte le mura della città poggiano su dodici basamenti sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città le sue porte e le sue mura la città è a forma di quadrato la sua lunghezza è uguale alla larghezza l'angelo misurò la città con la canna misura dodici mila stadi la lunghezza la larghezza e l'altezza sono uguali ne misurò anche le mura sono alte centoquarantaquattro braccia secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro simile a terzo cristallo le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose il primo fondamento è di diaspro il secondo di zaffiro il terzo di calcedonio il quarto di smeraldo il quinto di sartodonice il sesto di cornalina il settimo di crisolito l'ottavo di berillo il nono di topazio il decimo di crisopazio l'undecimo di giacinto il dodicesimo di ametista e le dodici porte sono dodici perle ciascuna porta è formata da una sola perla e la piazza della città è di oro puro come cristallo trasparente non vivi alcun tempio in essa perché il signore Dio l'onnipotente e l'agnello sono il suo tempio la città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello questa è la visione della Gerusalemme celeste certamente ne abbiamo tutte le pietre adatte precise bisogna cercarle trovarle averle tutte disporle ma me le prometto di avere tutte le pietre precise di fabbricare così la città in miniatura con pietre preziosi qui c'è il libro che ho scritto e abbiamo il simbolismo delle pietre ecco la pietra secondo l'esodo e secondo l'apocalisse nell'esodo sono le dodici tribù nell'apocalisse sono i dodici apostoli le attribuzioni non sono così avvanvera sono secondo le interpretazioni date dai padri perché i padri si sono scervellati su queste pietre cominciando da Epifanio che scrive dai gemmis fino a San Girolamo che arrivato a un certo punto dice non ci capisco più niente e tutti gli attributi fino a Cornela Rapide Salmeron ed altri vogliamo adesso leggere qualche attribuzione che hanno dato i padri non c'era tribù di Levi perché non c'era tribù di Levi perché la sua sorte è nel Signore e allora Cristo rifugge con le sue virtù nei santi prima andiamo al Zodiacale cioè al pettorale il sommo sacerdote teneva su un suo petto le dodici tribù di Israele e aveva due spalliere con i nomi scritti suonici delle dodici tribù sei per una parte e sei per l'altra parte portava il peso di tutto il popolo poi sul pettorale aveva i nomi delle dodici tribù tribù rappresentate da una gemma ecco secondo la scrittura ebraica e da sopra a sotto da da destra a sinistra per cui uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici e abbiamo la corniole ruben perché per l'ardore che egli mostrava e fece dei guai ruben topazio e simione è una bella pietra che gli antichi traevano da una isoletta vicino a Cipro ed era di colore a quei tempi di colore azzurro ma generalmente i topazzi di colore giallo ma in Brasile ci sono molti topazzi azzurri sono molto belli io ne ho molti non l'ho portato qua smeraldo e giuda è una pietra molto preziosa è rara costa milioni granato è il piropo veramente è il carbunculus quello che ha il fuoco dentro edan lo zaffiro e neftali è la pietra del cielo Dio siede sopra una lastra di zaffiro per gli antichi lo zaffiro era con tutta probabilità era il lapislastore il diaspro che Gad il diaspro è una pietra dura Dio siede c'era